Buon dia da Geklion e Max, oggi andiamo avanti a imparare il portoghese, dopo la scorsa lezione importantissima sull'usare le frasi educate, cioè per dire ciao, buongiorno, grazie, di nulla, queste cose qua, impariamo a usare, a salutare la gente, quindi guidebook, lezione, diciamo, un'età 2 di due lingue in portoghese dall'inglese, ovviamente non c'è dall'italiano, ma comunque sono ottimi i corsi quelli dall'inglese. Hola, buongiorno, oi, prazer in connesser você, la devo imparare, non mi entra in testa, qualcosa, qualcosa, non, 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 per dire non in portoghese usi now, per il verbo io non, come in italiano io non, non, non conosco ancora queste parole, mi sono ancora entrata nella testa, ma appunto, dobbiamo ancora impararle, vai. Hola, holà, holà, hello, anche qua, quindi vuoi dire hoi, holà, holà, veramente molto, molto alla spagnola, holà, parabéns, holà, parabéns, holà, buongiorno, 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 holà, bu mi spiace disculpe io non ho pane io non ho come è uscita hai due notte ma che stavo facendo non ho pane ok now disculpe questa quadra piacere, prazer em non so cosa dire di di conoscere nice to meet you piacere di conoscere nice to meet you prazer em conoscere você prazer em conoscere você non è conoscere prazer em conoscere conoscere ho lato hola prazer em conoscere você è una data giusta è una data terribile grazie laranja desculpe una a você oi prazer em conoscere você oi prazer em conoscere você conoscere conoscere come dice oi prazer em conoscere você conoscere conoscere prazer oi prazer em conoscere você oi oi prazer prazer em conoscere você ok difficilota difficilota perzer perzer en conoscere você sicuramente me la dimenticherò ma appunto la qualsias volta li passeremo li passeremo qua e allora si capirà tutto va bene good people english o english o english portuguese o portuguese 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 lo sappiamo lo sappiamo già io falo io falo io falo io parlo parlare è falar allora io falo inglese io falo ho io falo portuguese io falo portuguese lui lui parla il non fala inglese você fala português? você fala português? tu parla português? o menino não fala com licenza jace bond excuse me com licenza mi scusi mi spiace mi scusi com licenza com licenza com licenza com licenza com licenza com licenza você fala você fala português ok, é dificilota é realmente um hard exercise é realmente difícil e ci siamo perfeccion e vamos avanti eu não falo português o menino não fala o menino não fala eu não tenho pão desculpe olá prazer em conhecer você você com licenza você tem água me scusi me scusi você tem água leite e aqua do you have water? ah, eu estou sete português desculpe 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 eu não tenho leite e prazer em conhecer você e prazer em conhecer você e, ah, e, e, piacere di conoscere, ok, volevo, io non falo inglese, io non falo inglese, con licenza, ela fala, ela fala, lei parla, holà, holà, questa era non più facile, dai, abbiamo concluso dunque il mattone d'apprendimento, era veramente preparato verso il forze del tesoro, mamma mia, eh, sì, c'è chi li usa, giustamente, ma non frega nulla, allora, usa polite phrases, va bene, siamo a sei minuti di video, e dobbiamo soltanto fare l'ultima volta del poeta, oi, boa tarde, oi, boa tarde, oi, boa tarde, ciao, ciao, vai, good bye, hi, Sofia, oi, Sofia, ciao, 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 good bye, no, certo, facciamo un good bye, voglio adesso è la data giusta, sì, ciao, e stiamo salutando per andare, ciao, e bon dia, ciao e bon dia, oi, Paulo, oi, bom dia, boa tarde, boa charge, Buon dia e boa tarde, ho pronunciato malissimo, ciao e buon dia, ciao, boa tarde, perché buon pomeriggio, ok, e questa è andata, Io invito, come sempre, per chi vuole supportare il progetto, a lasciare un like di grande, grande, grande supporto al canale e anche al progetto, perché veramente mi state dicendo, sì, mi interessa, è già continua, vediamo un po' come va questo progettone, è una cosa molto diversa da quello che faccio di solito, ma mi piace, mi sto divertendo e soprattutto sto imparando. Allora, è un gioco, due lingue, perché è un gioco, però è un gioco divertente, è un gioco utile, è educativo, assolutamente. Detto questo, se non siete ancora iscritti al canale, beh, invito a iscriversi e a seguire tutti i contenuti, ovviamente. Por favor. Por favor. Ci siamo, ancora due lezioni, dai. Non ho un son di fretta, non è una speedrun questa. Oi, ciao. Por favor. Oh, cosa ho sbagliato. Allora, yes, non è, eh, volevo dire sim, non ho, cosa dice? Por favor, no. Por favor, no. Sim, Pedro. Não, obrigado. Não, obrigado. Sim, por favor. Não. Scrito male. Obrigada, ciao. Thank you, ciao, bye, bye. Obrigada. No, cosa ho scritto? Obridaga, che daga. Carro, por favor. Cos'ho detto? Um carro. Una macchina, per favore, così. Obrigado, ciao. Thank you. Vai. Assungeate prazi veramente assurda, a volte. Sim, obrigado. Io non tenho un carro. Ah, è due, no. È una macchina, io non ho una macchina, io non ho un carro. Obrigado, Paolo. Obrigado e buongia. Non so perché ho scritto obrigada. Sim, ciao. Sì, ciao. Ho scritto, ho scritto, ho scritto, ho i cesi. Ciao, ciao. Sei piaci, ciao che assoluta a te, me ne vado. Allucinante. Sì, ciao, ok. Thank you. Thank you. Non è grazia, sei obrigada, perché questa è femmina. Ok. Obrigada, Laura. Sì, sì, allora. Allora, ultima. Non, non è vero, ancora due. Congratulazione. Parabéns, Sofia. Parabéns, non come finisci un week. Ok, parabéns. Tutto bene? Tutto bene? Tutto bene. Tutto bene? Tutto bene? Tutto bene? Obrigado. Ciao, buona noite. Ciao, buona noite. De nada, buongia. De nada, buongia. Iniziamo vedere la struttura come leite, leite, scrive leite, leite, noite, scrive noite. Parabéns, menino. Buongiorno, tu leite è un buono. De nada, buongia. De nada, buongia. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Notte. Noite. Parabéns. A propostuna, ola e accettate. De nada, ciao. De nada, ciao. De nada, buongiorno. De nada, buongiorno. Ciao, ma lo sto iniziando a migliorare. Oi, tutto bene? Hi, come sei? Oi, tutto bene? Ciao, tutto bene? Tutto bene? Tutto bene? Tutto bene? Grazie, quindi, obrigado. Lasciate perdere se ho iniziato a parlare spagnolo, abitudine. Quindi, oi. Buongiorno. Noite. Ma come? È sera, non è pomeriggio, vero? Parabéns. E mia. Adonatemi per gli ore che faccio, sto imparando. È normalissimo. No, c'è. È normale, sbagliare, è normale, sbagliare. Ok. Va bene. Ultima lezione di oggi. Siamo a buon punto. Come vedete, più breve del solito. Oi. No, sim. Ciao. Non facciamo gli stessi errori. Obrigada. Laura. Poi. Oi. Poa. No. Noice, perché è sera. Ma perché l'ho scritto noice così? De nada. Come si pronuncia? Buongiorno. Buongiorno. Tutto bene. Tutto bene. De nada. Buongiorno. Tutto bene. Buongiorno. Buongiorno. Justo, eh? Sim. Sim. Obrigado, Andrea. Thank you, Andrea. Quindi, adiamo, boa. Buongiorno. Noite. Noite. E, come, ben, salvai, adiamo. Tutto bene. Tutto bene. Di nada. Buongiorno. Buongiorno. Di nada. Buongiorno. 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 Completamente diverso, eh? Dall'inglese. Completamente diverso. Oi. Oi. Sou. Piu. Questa è l'imparata prima. How are you? Eh. Tutto bene. Tutto bene. Come você está? Ma questa non l'abbiamo mai vista. Oi. Buongiorno. Quindi, per noi. Te. Si escreve noite. Io l'ho detto noice perché si pronuncia noice, ma è noite. Ok. Ok. Perfetto, ragazzi. Perfetto. È andata benissimo. Quindi, ora posso anche salutarvi a pomeriggio e dire boa tarde. Eh. Ciao. Fatta bene? Speriamo, dai. Ciao, alla prossima, ragazzi. E grazie per stati qua con me. Ciao.